...contro la Spezia, quando io gli avevo detto alla vigilia della partita con la Spezia, mi raccomando, fatevi una cortesia, scendete il campo solo teoricamente per direttore. Allora, sapendo che la Coppa Italia ha avvenuto un certo il campionato e quindi è una partita con minori responsabilità, io sono sceso in campo e sono divertiti, la sono giocata, quello che a me ha fatto piacere è vedere che poi alcuni ventiduesimi della squadra sono vari, anch'essi, quindi voglio dire alla fine ci sono 22 valori in campo da poter schierare, questa è la soddisfazione più importante per chi avendo fatto mercato alla fine ha sbagliato credo meno di quanto si pensasse. Tutti quanti straordinari, Maldonato ha fatto una bellissima partita, Gatti, grande sorpresa in campo, abbiamo sbagliato l'altro anno che ho avuto a prestare gli altri, c'è stata una piena regia, dalla Bona, dalla Bona fortissimo, vitale, un nuovo esperimento, bisogna usare, poi secondo me bisogna usare, perché voi non avete visto ancora Duzzo, Duzzo è una grossissima, buonissima.